In compagnia di Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la 19esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Allora, un anno di gestione dei musei archeologici del Sud, un confronto con gli altri colleghi, qual è stato lo spunto più interessante e un bilancio in generale? Il bilancio in generale è estremamente positivo perché le macchine sono state erudate, si sono create le strutture fondamentali di questi istituti, il bilancio, i servizi, i programmi culturali a lungo termine. C'è finalmente ordine e trasparenza anche nell'operato futuro che è stato dichiarato da parte di tutti. C'è un dato sensibile di incremento dei visitatori, proventi economici importanti che vengono diretti verso i musei e c'è anche una volontà comune di collaborare con tante iniziative congiunte, diciamo così, che vedranno i quattro principali musei del Sud collaborare e offrire finalmente un'offerta culturale di rilievo internazionale.